Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video e per questo video dovete ringraziare l'incoerenza giuffrediana ebbene sì, perché il signor procuratore Giuffredi procuratore di Mario Rui, Politano, Foloruscio, Caetano e soprattutto il protagonista del video di Lorenzo ha lasciato un'altra dichiarazione perché noi già stiamo bello combinato con l'anzi in attesa dell'ufficialità a da sci, chissà di buongiorno, devo dire due stranzate ed ecco qua, ecco qua il video su un piatto da gente ma prima io vi invito come sempre a iscrivervi al canale, a condividere il video e lasciate tantissimi piacere se ovviamente il video vi dovesse piacere commentate in maniera rispettosa, corretta, lucida, tranquilla e bla 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 sotto ovviamente in descrizione troverete tutti i miei social soprattutto Instagram dove vi tengo sempre, costantemente, aggiornati sia sulle live, sui video se le notizie non vi dovessero arrivare e sia sulle notizie di mercato che leggo in giro e poi il link di Twitch dove vado in live stasera niente live ma domani finale di Champions League e poi domenica e poi programma bla 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 ok? Bene caro signor Giuffredi io mi ricordo benissimo una tua dichiarazione di mesi fa che hai detto chi lascia Napoli dopo questa stagione è un vigliacco quindi il signor Di Lorenzo e se lo chiamo signor è anche un parolone è un vigliacco del cazzo allora premettiamo una cosa io ho 34 anni purtroppo ho 34 anni quindi ho visto giocatori andar via ho in questi 10 anni ho parlato di giocatori di cui ero affezionato che sono andati via come per esempio Iguain che però purtroppo non ha fatto quel boom come è successo con qualcun altro perché? perché io di Iguain era un periodo in cui io ho accettato la sua la sua cessione nonostante le sue visde mediche di nascosto ok? quindi io io capisco la professionalità che nel calcio non esiste l'attaccamento alla maglia non esiste più l'appartenenza cioè l'appartenenza a Sdim sul noi diffusi chissà chissà sapim a sapim longa canzone ok? no perché premetto metto subito le mani avanti faccio sempre questa premessa perché sicuramente dopo il discorso che farò mi ritrovo con i commenti eh ma sei un provinciale eh ma come quello va là quindi è un traditore trick e ballac trick e ballac io inizio a mettere le mani avanti ok? perché io lo so che è lavoro il loro e vanno in una direzione in una in una squadra dove si sentono più importanti i progetti più importanti eccetera 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 ma per quanto riguarda Di Lorenzo capitano che io ho voluto cioè mentre mentre in signe era capitano Di Lorenzo mi dava proprio le vibes di oh chissà un bello capitano ed è stato capitano due anni due anni è stato capitano del del terzo scudetto dopo 33 anni e tu dopo una stagione brutta dopo una stagione brutta di merda abbandoni la nave mica il cazzo di capitano ma ma ti hanno tagliato le palle dove sta dove sta questo coraggio questo carisma che io avevo avevo visto tre anni fa con in signe capitano in signe è più capitano è te Amzik è il capitano dei capitani dopo Maradona io rimango senza parole io giudico il di Lorenzo dopo se dovesse arrivare l'ufficialità ok e perché il mercato sapevo benissimo è aperto dal primo luglio al 30 agosto ok se di Lorenzo dovesse andare via mi incazzo mi incazzo soprattutto se dovesse rimanere in Italia soprattutto se dovesse andare alla Juventus ok e mi farebbe male mi farebbe veramente male ok ed è inutile essere ipocriti a dire no non mi fa niente no fa male fa male perché di Lorenzo è un giocatore di cui io mi sono e anzi è meglio dire mi era affezionato e fa male vederlo in una squadra nemica calcisticamente ok farebbe male farebbe molto male però non è Maradona di Lorenzo non è Beckenbauer non è Roberto Carlos non è Maldini non è Del Piero non è Zanetti non è Totti se qualcuno lo vuole soldi tiene un contratto fino a 2028 1 2 3 4 5 10 milioni 20 milioni 25 milioni posare i soldi 25 milioni e qualcuno dirà eh ma non ne vale 25 milioni teno un contratto fino a 2028 pur se tenete in un anno teno un contratto fino a 2028 rinnovato l'anno scorso chiusa parentesi comunque il buon Giuffredi che come ho detto un paio di mesi fa ha detto chi lascia Napoli dopo questa stagione un vigliacco rincara la dose rincara la dose anche se ha fatto un discorso che in live ne abbiamo ho affrontato abbiamo affrontato abbiamo ipotizzato ok allora innanzitutto ha confermato che Politano e Folo Ruscio e Gaetano o meglio Politano e Folo Ruscio rimangono a Napoli purtroppo perché sono sui assistiti vabbè e Gaetano sta in un bivio e e Di Lorenzo va via e Mario Ruiz va via perché in Napoli ha detto ha giunto li trovo a minima sistemazione quindi qua dobbiamo accendere un cero alla madonna che finalmente Mario Ruiz va a fanculo ok e se ne doveva andare già due anni prima due anni fa perché due anni fa alla fine della stagione dello scudetto ok Mario Ruiz ha finito la stagione da infortunato e noi come strunz l'hanno rinnovato sì ma proprio strunz ok bene allora il signor in coerenza il signor in coerenza ha detto dopo una domanda riguardo a Napoli-Lecce lui ha detto Giovanni Di Lorenzo non è mai stato sostituito in quest'annata voi faccio una domanda come mai secondo voi come mai è stata fatta questa sostituzione a tre minuti dalla fine perché per me l'allenatore si è prestato al gioco di qualcuno quindi secondo secondo questo signore incoerente questo signore incoerente ha ipotizzato che questo ordine di qualcuno dell'Aurentis abbia detto a Calzona di sostituire Di Lorenzo non ha fatto nomi perché sa che andrebbe incontro a a calunnia a diffamazione a denunce varie ok però la società iniziasse ad aprire gli occhi perché Giuffredi continua a rincarare la dose dicendo no pure se viene conto e noi l'abbiamo già deciso c'è riconoscenza proprio verso il Napoli assurda soprattutto per Giuffredi che ha campato e campa grazie a Napoli minchia complimenti minchia siete proprio degli uomini proprio con le palle grosse tutti quanti Di Lorenzo Giuffredi mamma mia eccezionale allora io voglio dire due cose anzi tre la prima lontano Giuffredi da Napoli lontano questi parassiti che grazie al Napoli si sono fatti un nome un nome regionale massimo nazionale ma non mondiale ma si sono fatti un nome grazie al Napoli però via i parassiti perché è troppo facile quante cose vanno buono non parlano stanno in silenzio i loro tesserati giocano quindi stanno a post quando le cose vanno male antenne dritte antenne dritte eh ma il giocatore non si sente importante cioè che poi è vero Di Lorenzo è stato lasciato solo dalla società e Di Lorenzo l'ha sbagliato dicendo no tutti sono cedibili che da una parte ha sbagliato perché cazzo il capitano tu lo reputi cedibile però dall'altra Di Lorenzo cosa si aspetta che hanno fatto una stagione di merda tutti hanno fatto una stagione di merda tranne tre Lobotka Cavaraschelia e ci metto pure Meret che non è tanto un problema colossale Meret ok tre tre sono stati migliori di questa stagione ok quindi Lorenzo cosa si aspettava gli elogi i fiori non penso non se meritava ok quindi uno fuori parassiti due caro Di Lorenzo immo a te immo mi rovolgo a te lo so che tu non caghi nessuno non caghi a nessun nessun tifoso forse qualche amico stretto della palazzina del vicinato e basta però mi aspetta che senti sto messaggio se non è vero quello che dice che dice Giuffredi oppure ha esagerato a dire chiudendo completamente le porte ok e tu invece dall'altro canto vuoi cercare da parare una poca situazione perché a detta di alcuni giornalisti Conte ti ha parlato e quindi ti avrebbe convinto diore tu dici a Giuffredi aio chiuroces oppure oppure cosa saggia come fece un grande capitano Amsic allontanati dalla gente allontanati da Giuffredi e dalla sua e dalla sua agenzia è semplice ok se vuoi avere un pochino un briciolo di credibilità e un briciolo di umanità e di rispetto perché con queste voci il rispetto che ti sei guadagnato in questi cinque anni lo stai perdendo perché Napoli quando gli dà un poco in Napoli ti ripaga tantissimo ma se gli dà un torto o Napolitano so tenne qua so tenne qua terza cosa messaggio alla società fatevi sentire con un comunicato hashtag voglio un comunicato perché Giuffredi ha ipotizzato dicendo eh ordini dall'alto si è prostato eh società arabo luoghi capisco che voi e Giuffredi andate in compagnia a mangiare pizza fate campanate vicino a lungomare state vicini vicini però sta comportando una chiave Giuffredi vi tratta da scemi volete comportarvi da società seria Cristo Santo cioè noi noi tifosi dobbiamo difendere ci dobbiamo difendere ci dobbiamo difendere da soli e dobbiamo difendere la società noi che non contiamo un cazzo perché noi per voi siamo clienti giustamente quindi cara società arabo luoghi e inizia a mangiartelo Giuffredi inizia a mangiare a sbranartelo perché sta stai usando un poca capo a dagalano pagrist fatemi sapere la vostra forza Napoli sempre e come sempre solo la maglia perché il numero dietro non conta un cazzo numero dietro il nome dietro non conta un cazzo di Lorenzo se non vuole andare pagare i soldi pagare i soldi pagare 25 milioni stop stop e la fascia capitano deve essere onorata caudio Lorenzo tu la fascia indossata da Hamzik da Insigne da Bruscolotti da Maradona gli stai mancando di rispetto oltre ad aver mancato di rispetto lo scudetto stai mancando di rispetto al simbolo del Napoli la fascia di capitano fatemi sapere la post forza Napoli sempre ciao io che bella vita è ino di prepomore lنا che è si دم ci acie la qui mi non è le la attivate